Stiamo protestando perché da 19 gennaio non ci hanno più corrisposto sia alla solidarietà e stiamo vivendo con metà dello stipendio. Andremo avanti con lo sciopero fino a domenica perché oltretutto non ci hanno neanche garantito ci hanno garantito la chiusura ma non ci hanno garantito altre situazioni lavorative per 79 famiglie qui alla Mercatone 1. Continueremo la protesta, abbiamo avuto la solidarietà di tutti i sindaci dei comuni interessati avremo molti incontri per quanto riguarda il livello politico istituzionale ma la cosa più importante è che cerchiamo possibilmente più visibilità possibile perché vorriamo delle risposte della Mercatone 1 che nonostante le nostre proteste sono latitanti ormai da un bel po' di tempo, nonostante gli incontri alla sede di Imola e addirittura l'incontro al Ministero a Roma. Non sono fatti vivi per cui la gente è esasperata perché non vediamo una via di uscita per quanto riguarda i posti di lavoro che stiamo normalmente perdendo e lo perderemo sicuramente perché ormai i tempi sono stretti. Chiediamo che qualcuno della Mercatone 1 venga qui a dirci se il Mercatone chiude la chiusura o l'eventuale riapertura con qualche altro interlocutore.